E' stato condannato ad un anno e nove mesi di carcere per furto aggravato un 19enne cittadino italiano ma di origini albanesi questa mattina nel processo per direttissima presso il tribunale di Pesaro per il furto che ha commesso assieme ad altri complici alle due della notte scorsa ai danni della bocciofila combattente di Fano. L'albanese tra l'altro è lo stesso che si è reso protagonista nemmeno un mese fa di una serie di furti nella nottata nel quartiere del Vallato ai danni di auto in sosta per i quali era stato condannato dal giudice ma rimesso in libertà con obbligo di firma ma questa volta vista la recidiva del soggetto per lui si sono spalancate le portere del carcere di Villa Fastigi. Poco dopo le due l'azione pressoché immediata di una volante del commisariato di Fano che era di servizio nel quartiere del Vallato ha consentito agli agenti di cogliere praticamente nelle immediatezze del furto i responsabili. Gli agenti sono arrivati sul posto dopo che l'allarme del locale del bar è scattato poco dopo le 2.30 nel tentativo da parte dei ladri di forzare la porta d'entrata per arraffare soldi e quant'altro a loro portata di mano e che ha portato però sul posto un'auto anche della vicinanza privata che ha iniziato subito a perlustrare il perimetro mettendo in fuga così i malviventi. Prima però i ladri dopo essersi introdotti nella struttura che ospita la cucina della combattente rompendo un vetro della porta d'ingresso avevano già fatto razzia di svariati chili di pesce fresco e delle vettovaglie, pentolame vario, affettatrici ed altre masserizie, persino il sale ed il pepe che sarebbe servito alle 13 di oggi per un pranzo natalizio assieme agli ospiti del centro diurno di San Lazzaro offerto gentilmente dall'associazione Vongolai di Fano. Un brutto colpo per la bocciofila non solo materiale ma anche morale. Sì alle due e un quarto mi sono alzato perché c'era l'allarme poi sono arrivato qui che praticamente c'era la polizia più le guardie notturne e quanto ho visto tutte queste cose insomma sono rimasto molto male per poi per questi ragazzi che doveva essere una bella giornata oggi. Ma la bella festa di solidarietà e sport comunque non è stata rovinata dal furto dei generi alimentari perché la catena di solidarietà si è messa in moto e di Vongolai hanno subito tamponato e preparato un ottimo pranzo alla faccia di chi voleva rovinarlo. Anche gli uomini del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti compresa la delicatezza della situazione che si è venuta a creare si sono adoperati per trovare un ristorante, un locale che avrebbe potuto comunque offrire il pranzo cosa per la quale il presidente ha espresso un caloroso ringraziamento. Il 19enne è stato catturato dagli agenti della volante con un'azione coordinata. Una volta individuato assieme ad un altro complice poco distante dalla bocciofila mentre i due appunto tentavano di darsi alla fuga in bicicletta uno dei due agenti si è lanciato all'inseguimento a piedi mentre l'altro con l'auto di servizio lo ha abbraccato e portato praticamente dritto dritto tra le braccia del suo collega. Il secondo malvivente però nel frattempo ha fatto in tempo a far perdere le sue tracce. Il bottino non ancora recuperato ammonta ad oltre 300 euro di pesce ed un migliaio di euro fra danni e masserizie portate via ma questo non è stato l'unico furto della nottata, ce n'è stato un altro ai danni del deposito del Corriere Espresso Bartolini dove per l'effrazione però sono entrati in azione subito oltre all'allarme anche i fumogeni mettendo così in fuga i ladri.